Riscaldamento Total Body, 5 minuti di esercizi di facile esecuzione per preparare il corpo all'allenamento. Iniziamo! Iniziamo! Riscaldamento Total Body, 5 minuti. È molto importante il riscaldamento pre-workout. Incrocio braccia orizzontali, incrocia le braccia davanti a te, apri bene e chiudi bene. Movimento lento e controllato. 3, 2, 1. Cambia, circonduzione braccia in avanti, fai un movimento ampio, lento, controllato. Inizia la respirazione, naso e bocca. Scaldiamo bene tutta la parte superiore delle braccia. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Ora indietro. Cerchi ampi e movimenti controllati. Respira profondamente. Scaldiamo la parte superiore del corpo. Allarga bene, allarga. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Slancia la gamba sinistra. Movimento controllato e preciso. Tocca il piede con la mano. Movimento lento, controllato, sincronizza, sali e tocco. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia gamba. Ora la destra in avanti. Cerca di toccare la punta del piede con la mano. Movimento ritmato, preciso. Sincronizza le braccia. Fai lavorare anche le braccia nel movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Saltellata laterale. Piccoli saltelli a destra e a sinistra. Scaldiamo bene anche la parte inferiore del corpo. Caviglie, ginocchio, gambe e addome. Vai. Mantieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Calciata saltellata. 20 secondi. Saltella portando i talloni al gluteo. Aumentiamo un pochino il ritmo. Scaldiamo bene. Respirazione attiva. Naso, bocca. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Mezzo squat. Mezzo squat. Gambe divaricate. Scaldiamo bene. Scendi con il bacino. Il ginocchio non supera la punta del piede. Braccia in avanti per la stabilità. Scaldiamo bene tutta la zona gluteo, gambe e core. Vai. Cambio. Saltella. Squat. Saltella. Vai. Sincronizza i due movimenti. Jump su mezzo squat. Mezzo squat. Jump. Mezzo squat. Jump. 3, 2, 1. Cambio. Spinte dietro. Braccia lungo i fianchi. Sali. Vai. Sali e spingi dietro. Sali e spingi indietro. Respirazione. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Due distensioni in avanti e due circonduzioni. Movimento combinato. Due distensioni in avanti e due circonduzioni. Movimento combinato. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Apri le braccia lateralmente. Gomiti fermi. Apri e chiudi. Schiena diritta. Respirazione attiva. Scaldiamo bene braccia, spalle, gomiti. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Mobilizzazione della colonna. Mani in appoggio sulle gambe. Inarca la schiena. Tira sulla testa. Respira. Respirazione sempre attiva anche in fase di riscaldamento. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Jumping jack. 20 secondi. Respira. Scaldiamo bene le gambe. Sguardo fisso in avanti e schiena dritta. Sincronizza il movimento. Apri e chiudi. Mantieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Jumping jack. Alzata frontale. Salto con braccia laterali. E salto con braccia frontali. Mantieni il ritmo. Respirazione attiva. Sincronizza i movimenti. Non ti fermare. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Slanci. Inizia con la gamba sinistra. Pieghi il corpo leggermente in avanti. Cerca di toccare il piede. Vai. Il piede tocca e risale. Il piede tocca e risale. Mantieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia gamba. Incline il corpo leggermente in avanti. Mani nei fianchi per bilanciare l'equilibrio. La punta tocca e risali. Tocca e risali. Mantieni il ritmo. Respirazione attiva. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Il tuo riscaldamento è finito. Buon allenamento. 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 Grazie a tutti.